Direi in conclusione che ci sono due effetti, uno lo chiamerò di tipo antropologico, per cui è nata da un po' di tempo una nuova figura di combattente, che non è più il semplice militare il quale viene mandato a ammazzare, a farsi ammazzare, ma è l'operatore della sicurezza che è fungibile in varie situazioni, che può benissimo smettere di fare i militari, andare a fare lo sminatore, entrare nella riserva, questo vale per gli americani come gli europei e quindi il ruolo dei mercenari, il ruolo dei contractor, che disegna uno scenario completamente nuovo e questo è l'effetto che chiamerei di tipo più antropologico, cioè muta una funzione classica delle società occidentali che è il ruolo del guerriero rispetto alla società civile, che oggi è molto più ambiguo, è molto più sfumato e che quindi comporta altri problemi e comporta anche dei problemi di sicurezza e di libertà nei confronti della situazione interna ai nostri paesi per il semplice motivo che queste figure possono essere impiegate anche per controlli interni. Pensate soltanto banalmente che in base a una legge votata alcuni anni fa in polizia l'accesso preferenziale di ex militari, quindi oggi molte cose che succedono in Italia, l'uso della violenza diffusa nei confronti delle manifestazioni, di proteste, si può anche spiegare con il fatto che l'allenamento dei nuovi poliziotti per lo più è un allenamento in origine militare e quindi gli scenari che si aprono sono evidenti. Questo è l'aspetto antropologico-sociale. L'aspetto di politica più legato alla politica estra tradizionale è la fine della vecchia logica della sovranità. se a intervenire in Iraq, nei Balcani, in Afghanistan e dopo domani non so dove, non sono più i singoli stati ma organizzazioni più o meno legittime come la Nato o pezzi di alleanze ad hoc per quanto riguarda l'Europa solitamente vicarie, direi che il controllo delle strutture parlamentari all'interno dei singoli paesi su questi conflitti è nullo. L'Italia è stata coinvolta in quasi tutti i conflitti, in modo marginale ma è stata coinvolta, da 1991 e mai il Parlamento ha approvato questi conflitti.